Una mattinata di lavoro a ridosso del Ferragosto, siamo all'interno della sala operativa della società di salvamento di Pescara, Cristian Di Santo, siete al lavoro così come sarete al lavoro nei giorni di Ferragosto per controllare tutto il litorale abruzzese? Assolutamente sì, è un'operazione di sicurezza che rientra in mare sicuro con la direzione marittima di Pescara, è la nostra associazione che ormai da oltre 30 anni è attiva sul territorio di Pescara e non solo ma anche di Francaville e Montesilvano, ovviamente in questi giorni di maggiore affluenza dei turisti e dei bagnanti in acqua ovviamente si alzano anche i livelli nostri di attenzione. Quindi abbiamo sul litorale due moto d'acqua con la nostra centrale operativa radiocollegata con tutte le postazioni, abbiamo anche dei volontari appiedati, abbiamo un pick up su Francavilla con a bordo personale qualificato la rianemazione cardia con defibrillatori e anche mezzo di primo soccorso. Quindi diciamo che i livelli di sicurezza si sono alzati notevolmente, ovviamente tutto per far sì che i bagnanti trascorrano una stagione dei giorni particolarmente carini sotto l'aspetto dell'estate e del mare. Cosa accade quando arriva una chiamata di soccorso? Beh quando arriva una chiamata di soccorso la centrale arriva la chiamata nella centrale, la centrale smista la chiamata a seconda del bisogno, avverte l'autorità marittima, la guardia costiera, dopodiché anche eventualmente i nostri mezzi, i nostri uomini. Non ci dimentichiamo che ieri c'è stato un intervento su uno o due surfisti in difficoltà, la guardia costiera è uscita con la propria moda vedetta per assistenza, è stato veramente un bel lavoro di squadra. Ovvio che diciamo c'è una grande sinergia per queste attività di recupero e di soccorso. Ovviamente la centrale operativa smista tutte quelle che sono, diciamo gli allarmi o i vari recuperi da effettuare. Alle nostre spalle di Santo abbiamo una piccola rappresentanza insomma di questi ragazzi che si occupano quotidianamente del soccorso in mare. Assolutamente sì, sono una piccola rappresentanza di ragazzi e anche di esperti che senza di loro non possiamo mandare avanti questo progetto veramente veramente elaborato, ma è fatto di tanti uomini e tante persone appassionate che poi portiamo un unico obiettivo finale, quello della salvaguardia della vita umana in mare. Infatti possiamo dire che la zona di Pescara e Provincia e anche Francavilla non registriamo più annegamenti, morte per annegamenti da diversi anni, proprio perché possiamo dire che sono delle città veramente sicure sotto l'aspetto dell'abbalnazione. Grazie.